penso che sia importante fare un approfondimento su come funziona il denaro e in particolare sulle varie fasi quanto riguarda la gestione del denaro bene il denaro prima deve essere guadagnato poi deve essere gestito poi deve essere moltiplicato e infine deve essere speso partiamo dall'inizio la prima fase imparare a guadagnare il denaro bene spiegare come funziona il mondo del lavoro ok come funziona la carriera di una persona ok importanza del lavoro nella vita di una persona cioè come realizzare un percorso professionale che ci permetta di esprimere i nostri talenti ma anche allo stesso tempo avere un reddito stabile ragazzo giovane dovrebbe dedicare particolare tempo a capire il mondo del lavoro questa è la fase in cui guadagniamo il denaro poi c'è la fase in cui dobbiamo gestire il denaro